Ben ritrovati dalla redazione web della città, buon lunedì, cominciamo subito con le notizie di viabilità, andiamo a sentire dalla voce di Walter Gerbi che cosa ci aspetta per oggi. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del comando di Polizia Municipale di Torino. Buon lunedì 29 giugno, le notizie di oggi, fino a sabato 18 luglio al Parco Carrara, Pellerina, tecnostruttura dedicata al Grande Fratello City 2009. Per lavori AS, rallentamenti in via Condove, tra via Cassina e il Civico 24, e in via Trecate, tra i civici 23 e 30. Chiusura temporanea controviale nord di Piazza Marmonata, fronte civici 3 e 4, e in corso mediterraneo, tra via Botteggo e via Giovanni da Verrazzano. Per lavori iride, divieto di transito nel controviale ovest di Corso Turati, tra via Filangeri e via Magellano. In via Breglio, carregiata laterale sud, dal civico 11 a Corso Venezia, in versione del senso di marcia, da ovest a est, e chiusura a sbocco in Corso Venezia. Semafori manutenzione in via Roma, angolo via Buozzi, e Corso Orbassano, angolo via San Marino e Boston. È tutto, buona giornata, buon viaggio. Grazie Walter, buona giornata anche a te. Andiamo a vedere la situazione del tempo, fa decisamente caldo quest'oggi in città, lo vediamo anche dalla rilevazione dell'Arpa Piemonte delle ore 8, la trovate sulla nostra home page, come vedete 23 gradi abbondanti in città, umidità molto alta, siamo intorno al 71%, un valore decisamente alto per quest'ora del mattino, le previsioni per oggi sono di cielo sereno, si manterrà ovviamente alla condizione di bel tempo, farà caldo, ma ne sapremo di più nella nostra edizione di oggi pomeriggio. Andiamo a vedere le notizie dal web della città, vi segnaliamo il nostro settimanale culturale, il Torino Web News, che questo venerdì è uscito con un numero speciale dedicato al PAV, il Parco di Arte Vivente, il Centro di Arte Contemporanea che trovate in via Giordano Bruno, abbiamo fatto un piccolo giro all'interno del parco, come al solito trovate nel numero di questa settimana anche tutti gli appuntamenti culturali per i giorni a venire. Vediamo le nostre webcam per dare un'occhiata alla città in questa calda mattinata di giugno, eccoci qui, questa è Piazza Palazzo di Città, in questo momento l'inquadratura del monumento al Conte Verde, poi andiamo a dare un'occhiata al traffico partendo da nord, qui siamo all'imbocco della Torino-Milano-Osta, come vedete il traffico scorre senza problemi, abbiamo un po' di auto in uscita dalla città, qui invece siamo nella zona sud, l'incrocio di Piazzare Caio Mario, la congiunzione di Piazzare Caio Mario, troviamo un po' di traffico in corso Unione Sovietica direzione sud, il quadrante inferiore sinistro e anche in via Onorato-Vigliani il quadrante inferiore destro. Chiudiamo con questa bella immagine della mola antonelliana grazie alla webcam della regione Piemonte con le colline sullo sfondo, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, l'appuntamento oggi pomeriggio alle 16.15, vi ricordo che alle 15 ci sarà la diretta del Consiglio Comunale disponibile sulla nostra home page. Grazie a Mario Parena, buona giornata a tutti.